Sai cos'è un L-CAT e come influenza la tua performance? Hai interiorizzato la differenza tra recitare per un piano medio e per un primo piano? Sai usare il volume della voce per creare una sensazione di intimità e intensità nel pubblico? Ogni giorno migliaia di ottime performance finiscono nel cestino, perché gli attori non hanno fatto proprie le tecniche che rendono la recitazione adatta alla telecamera e al montaggio. Per la prima volta Ruggero Dalla Santa porta il suo stage Screen Acting Skills in Italia, in collaborazione con l'Accademia Internazionale del Musical di Roma. E se chiami entro il 15 novembre, potrai prenotare il tuo showreel con scene fatte su misura ad un prezzo scontato. Grazie per la visione!